Convocati dalla prima commissione del Consiglio regionale, gli amministratori di Sovizzo e Gambugliano hanno portato i risultati del referendum per la fusione dei due comuni che si è svolto il 29-30 ottobre e le loro ragioni affinché questa fusione proceda. Visto il quorum mancato a Sovizzo per soli 25 voti, la palla è infatti passata in regione. Il primo sì è arrivato dalla prima commissione del Consiglio, ora manca l'ok del Consiglio regionale, atteso entro fine anno che metterebbe il timbro definitivo al sodalizio di cui farebbero parte 8.600 cittadini. La commissione all'unanimità proporrà al Consiglio regionale entro fine anno la possibilità che i due comuni si sciolgano per dare vita al nuovo comune di Sovizzo dal 1 gennaio 2024, dove arriverà un commissario mentre io e il sindaco Forlinda daremo le dimissioni e si concluderà così il nostro mandato. Dai primi di gennaio ci sarà un commissario prefettizio quindi fino a giugno, poi sarà la volta delle elezioni per nominare il sindaco del neo comune che erediterà il nome di Sovizzo.